Diego, sei d'accordo se facciamo un esercizio di fascinazione sperimentale? Va bene. Ok, perfetto. Allora, tu spingi si forte qua in giù verso il basso, spingi forte come se volessi andare in cielo e guardami negli occhi. Spingi forte come se volessi andare in cielo. Bravissimo. Continuo a guardarmi negli occhi perché anche le arti marziali dicono che quando si spinge così come se si volesse raggiungere il cielo è come se si perdesse un po' in contatto con la terra. Fissate. 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 in questo periodo, molto leggerito. Ascriviti al nostro canale, porto informazioni che ho imparato dai miei maestri, molti informazioni.